per poi avere le corse buone a disposizione nel proseguo della stagione Quando entra Winning Hunter si va agli ordini dello starter, tutto è pronto Partiti La Gasca all'interno prova a tenere la posizione da Salutation che all'esterno Winning Hunter va davanti il rientrante con Winning Hunter al suo esterno in terza corsia scoperto, meglio scoperto che è una femmina, c'è Nottings Sacred Poi la Gasca che si è coperta invece in corda, Brazio Spirit è in coda perché prima ci sono Fabula Doc, Psitta e con Salutation e Winning Hunter La Gasca e Nottings Sacred, poi Psitta, Fabula Doc e gli altri con in penultima posizione Brazio Spirit sulla curva Salutation, Winning Hunter, La Gasca e Nottings Sacred dei rincorsi da Psitta, Fabula Doc e Brazio Spirit, si entra addirittura Salutation, Winning Hunter che accompagna e aspetta, Nottings Sacred e non si scopre Ai lati di Winning Hunter, Winning Hunter che passa, Esposito che guarda di fuori Di fuori c'è Nottings Sacred montato, di dentro la Gasca, poi Psitta con di fuori Brazio Spirit e Pulstock, Battuta Fabula Doc, Winning Hunter allunga in corda in seguito da Nottings Sacred Poi da Psitta, La Gasca e Brazio Spirit, nel finale Winning Hunter si allunga in corda e va a vincere Lasciando Nottings Sacred secondo e per la terza La Gasca e Psitta, forse nell'ordine Forse nell'ordine Vittoria di Winning Hunter per Diego e Sergio Dettori, i colori di Laura Costa Mario Esposito al successo da favorito, seconda Nottings Sacred e terza La Gasca che precede Psitta, 8, 4, 3, 6, i...